è una clip che parte dall'insegna onda tamburino moto dealer qui a napoli di annullato generale benvenuti appassionati motocilismo parliamo di onda in questo spazio test questo bello negozio che in realtà affianca la sede principale di parite poi ci sono i punti di vendita di aversa e arco felice la tamburino moto che oggi ci ha proposto finalmente di provare il nuovissimo x adb qui intanto c'è un po tutta la gamma esposta bellissimo anche nuova sh 125 mod eccolo qui protagonista best seller da quando arrivato sul mercato del 2016 imposto subito con la sua prepotenza sua consistenza e suo grande contenuto tecnico che ovviamente è stato sposato da migliaia e migliaia di utenti questa è la nuova versione ma già nel 2016 abbiamo capito che questo veicolo sarebbe stato un grande successo vabbè adesso ci mettiamo le mani su video come faremo un giro per napoli ma non solo ciao ciao Siamo pronti, salutiamo innanzitutto Toto, ciao Toto e Lenzo che ci hanno assistito nelle fasi di preparazione, Xadv, ovviamente parte in folle, gear, vedi, neutro, ma parleremo a lungo di questo cambio automatico e sequenziale che sicuramente è il punto forte di questo veicolo. Ciao ragazzi, ora fare questo giro intorno al bicilindrico più famoso di Honda in questo momento, 745 cm3, 58 CV, quindi abbiamo incrementato la potenza innanzitutto con un valore di coppia che si assesta intorno ai 7 kg metro, per un consumo dichiarato da Honda che si aggira intorno ai 27,8 km con un litro, è incredibile, fantastico, riduzione di peso rispetto al modello 2016 di 2 kg perché si è lavorato utilizzando il peso del telaio, il peso complessivo si aggira intorno ai 236 kg, questa è la carta di identità Xadv 750 in versione 2021 che come detto va a migliorare diversi elementi rispetto a quello precedente che comunque ha avuto ed ha un successo incredibile, anzi con l'arrivo di questa nuova versione se potranno fare bei affari, un modello precedente visto che veramente questo sta andando a ruba ragazzi se l'avete visto, l'avete anche provato e aspettate magari anche la nostra recensione che si sta svolgendo e siete conviti, andate subito nei store di Tamburino Moto a Napoli ad Aversa a Parete, provincia di Caserta e Arco Felice perché veramente sono così pochi vanno a ruba, quindi innanzitutto la nostra prova pavè perché ho sentito che le sospensioni del nuovo Xadv 750 Honda sono molto sostenute, ciò non vuol dire rigide però, piccolo sul passino, ovviamente ho appena tocchi di gas, anche in modalità standard, la risposta è immediata, abbiamo veramente un veicolo che da questo punto di vista ci sorprenderà il pavè è qui abbastanza dissestato, non si vede, per chi conosce la zona siamo intorno al cimitero di Poggio Reale, visto che Dambolino si trova a Poggio Reale, saliamo qui qua c'è un piccolo pezzo liscio però, poi riprende il pavè, non vi preoccupate scendiamo nuovamente per via Don Bosco che è un altro punto critico di Napoli, praticamente tu arrivi all'aeroporto, per arrivare al centro città devi fare questa strada che si presenta da sola, il pavè è quello che è, tratti di asfalto, tombini messi così alla rinfusa che salgono e scendono e questa diciamo è la volta in ingresso per arrivare nella nostra città quando scendi dall'aereo a Capodino, e comunque XADV si mostra confortevole anche su questo bel pezzone distrutto, semi distrutto, quindi devo dire che finora la rigidità che si diceva di XADV per quattro quadri le sospensioni non mi hanno poi in realtà messo in crisi più di tanto. Alcuni elementi estetici di cui vale la pena parlare sono innanzitutto il full led all'anteriore bellissimo, molto più sfilante, avveniristico rispetto al precedente, finalmente la sella che è stata ridimensionata nella punta e mi consente di avere subito luci a terra con le gambe, ciò non avveniva in maniera proprio naturale sul modello precedente, si faceva un po' fatica ma adesso veramente XADV può offrirsi anche a chi è diversamente alto, perché si arriva subito con le gambe a terra, poi lo vedremo nel percorso in città. Le pedale off-road che Trambolino Moto ha equipaggiato su questo splendido veicolo demo, che sono pure molto utili anche nell'utilizzo in città devo dire. Abbiamo anche un nuovo scarico che fa parte sicuramente dei dettagli estetici della nuova versione di XADV 750, che comunque non è stato stravolto dal punto di vista della geometria, nel senso che abbiamo ancora la stessa distanza braccia, manubrio e collocazione sul veicolo, quindi non abbiamo avuto grossi stravolgimenti per quanto riguarda il comfort a bordo, che resta tale e totale devo dire. In un attimo siamo a Porta Capuana, visto che siamo in città io abbasserei il nostro plexiglass, ecco qua, ho forzato un poco, però in realtà si fa in maniera molto più semplice, forse si vede anche un po' meglio la prospettiva, avete visto come in realtà arriva qui, quindi veramente in autostrada, su lunghi tragitti, è importantissimo avere un bel plexiglass così alto, che il resto è cambiato, se non sbaglio è stato in questa posizione messo più in basso, in modo da avere la linea orizzontale anche, ripeto per i diversamente alti, un po' più diciamo ad appannaggio di una buona visibilità. Oggi testiamo anche ancora una volta il nostro Premier Delta, devo dire, casco comodissimo, abbiamo la lente OV, è un modulare, ecco qua, ci chiude in maniera molto semplice, salvo poi riaprirlo e sfruttare la grande visibilità, devo dire, da destra a sinistra di caschi Premier modulari, ricordo anche cerchi da 17-15 confermati con un 120 e un 160 che ti dà l'idea dello scooter moto, perché classificato l'XDV 750 io direi che è più uno scooter che una moto, però ha un comportamento motociclistico, più uno scooter perché non c'è il serbatore della benzina davanti, ha il vano sotto sella, ha grandi scocche per proteggerci durante l'inverno anche dalla pioggia, però dinamicamente è assolutamente da considerare una moto, quindi è l'unico ibrido, veramente ibrido, che ti dà le caratteristiche che servono sia per uno scooter che per un'amore, allora, vedete che riusciamo in qualche maniera dove è possibile a svincolare al traffico cittadino, grande equilibrio, vedi come sto fermo senza mettere giù le gambe, fantastico, qui stiamo anche in salita con un leggero dislivello sulla sinistra, quindi per farvi capire che cura maniacale del resto, questo è stato assemblato, è assemblato in Giappone, disegnato e voluto dall'Italia, con Carbonara che ne ha aggiustato il tiro rispetto al modello precedente, Carbonara che ha già disegnato le versioni dell'Africa Twin, ok, vi ho portato nella parte più monumentale di Napoli con il municipio e poi con Castelnuovo, penso che ci sia un po' di contoluce a quest'ora della mattina, non si apprezza bene il castello, bisogna aspettare più pomeriggio. Sfruttiamo questa colonna a destra di scooter, dove anche XA TV riesce, vedete, a inserirsi con molta naturalezza, nonostante il manubrio largo che comunque di contro ci regala una grande maneggevolezza. Non ricordavo il comfort che XA TV può regalare, questo è tutto vantaggio del fatto che se ci devi stare molto tempo su non soffri più di tanto, anche se ci devi stare in città, spostarsi in città, magari non a Napoli, che è una città piccola se vogliamo rispetto alle grandi metropoli italiane come Roma, ma stessa Milano, riesci a spostarti quei veicoli da un punto all'altro anche in maniera molto rapida, se vogliamo i 20 minuti puoi passare dalla stazione a fuori grotta. Però nelle grandi città, dicevo, dove i tempi di percorrenza sono maggiori, XA TV può offrire veramente tanto comfort, sia sui San Pietrino che abbiamo visto prima, che sul pavé, come in questo momento, mentre ci regaliamo l'ultimo scorcio di Palazzo Oiale. Parliamo un attimo di mappe e su XA TV ne abbiamo quattro, quella standard che vi ho fatto vedere, abbiamo anche la Rain, vedete che cambiano le condizioni, tra l'altro è molto bello perché adesso anche col gas leggermente aperto puoi cambiare la mappa su XA TV, vedi Gravel per il fuoristrada che esclude diversi elementi, poi abbiamo la User che è quella personalizzabile e poi c'è anche una Sport in realtà. Cambio di CT e qui, come detto, c'è il punto di forza di tutto il progetto Honda 750 con NC, arriva da integra in realtà questo bicilindrico, ma l'avete sicuramente visto e rivisto che sono dieci anni che esiste ormai questo progetto, associato al DCT, come sapete è arrivato anche su Africa Twin, ma tra l'altro probabilmente tra poco arriverà anche su altre moto della gamma Honda. DCT ti dà la possibilità di essere utilizzato completamente in autonomia, quindi ci passiamo allora, ecco qua col tasto AM che è sulla plancia a destra, ci siamo passati in manuale e AM sul TFT che abbiamo a disposizione, e noi con le levette qua, più o meno, riusciamo a sopravvanzare e a scalare le marce, ovviamente se arrivi troppo lento e sei in una marcia alta, il sistema ti dà sostegno, cambiando lui la marcia. Ed ecco il nostro tratto misto, scusate ero in manuale dove va abbassare il casco, dove vediamo un po' le 12 ciclistiche di XATV 750, l'inserimento preciso, del resto la forcella showa da 41 che abbiamo visto prima nell'utilizzo in città, sostenuta e si vede, poi cosa bella è che non sento più quell'inerzia che c'era sul modello precedente, mi conforta molto questo durante la guida, al posteriore giusta la trazione, vedi come piega XATV e come è cambiato il sound nonostante abbiamo la Euro 5, bello veramente. Buona anche la frenata, frenata che all'antilore gode dell'impianto Nissin Radiale, con le pinze d'attacco radiale. Molto divertente, poi con la guida del DCT manuale abbiamo praticamente una motocicletta a tutti gli effetti, vai! Le ultime informazioni voglio darvele per il passaggero che è una posizione veramente confortevole, guardate la pedana alla giusta distanza con la sella, tra l'altro il passeggero che si può ovviamente aggrappare ai nostri grandi maniglioni, vano sottosella che può contenere un casco integrale, vedete come si vede in questa immagine, e poi sul nostro XRV 750 di tamburrino moto abbiamo equipaggiato anche un Easy Block che è un progetto tutto napoletano che blocca la ruota in maniera molto semplice, vedi con la chiave, salvo poi sbloccarlo in maniera molto naturale. Questo veramente è un non plus ultra per i veicoli di tamburino moto che possono essere equipaggiato, ovviamente poi con un accorgimento sul prezzo d'acquisto che parla di 12.500 euro per il nuovo XATV, quindi c'è stato un piccolo incremento di prezzo per questo eccezionale veicolo, poi ovviamente si tratterà di accordarsi con i quattro storo di tamburino moto, via nuova Poggio Reale, Parete, Avesta in provincia di Caserta e Arco Felice che è a Pozzuoli per entrare in possesso di XATV 750. Se poi mi state seguendo prima del 26 settembre vi comunico che per quella data, domenica il 26 settembre, Tamburino moto ha organizzato il motogiro di Tamburino, è un evento aperto a tutti, non solo i possessori di Honda, venite ci saremo anche noi perché dalla sede di via Nuova Poggio Reale ci sarà un bel tragitto che ci porterà fino a Campitello Maitese, quindi è un'occasione per stare tutti insieme, vi ripeto ci sarò anche io, realizzeremo il nostro servizio, quindi affrettatevi, contattate i social di Tamburino o anche chiamateli direttamente perché credo ci sarà bisogno di un minimo di prenotazione, vi aspetto, va bene ci vediamo alla prossima, ciao a tutti! Ciao un salzo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.